Il Teatro Z dell'Aquila, che al suo interno ingloba sia cinema che teatro, non rinnova la convenzione con il Comune dell'Aquila, un atto di forza che di fatto fa rinunciare anche al contributo ordinario annuale di 3.000 euro, che secondo il Teatro Z è un contributo assolutamente insufficiente per come l'attività è cresciuta nel tempo e non è facile gestire una struttura di qualità. Da anni, ha detto il direttore Emanuele Morgese, chiediamo al Comune un'attenzione in più, fondamentale poi in un momento in cui peraltro le attività sono ferme, ma per Morgese non è mai arrivata risposta e di qui la decisione. Si passa dai 133.000 euro che percepisce il Teatro Stabile d'Abruzzo, su un altro capitolato perché sapete che il Comune è socio, fino ad arrivare ai 53.000 euro della Sinfonica abruzzese o ai 27.000 euro della Società Barattelli, la Società dei Concerti, oppure i Solisti Aquilani che percepiscono 16.500 euro l'anno. Benvenga, per carità, ripeto, ho fatto un elenco perché facciamo parte di questo elenco e si legge Teatro Z 3.000 euro. Questo avviene dal 2008, laddove Teatro Z nel 2007-2008, adesso non ricordo l'allora assessore Ximenes, assegnò questo contributo ordinario dove la piccola associazione Teatro Z, cambiando negli anni, lo vedete sotto gli occhi di tutti, l'evoluzione del Teatro Z e del Cinema Z, siamo cinema e teatro, è diventato oggi un ente riconosciuto unico in regione da due direzioni, la direzione dello spettacolo, del Ministero, del MIBACT e la direzione dell'audiovisivo. Nonostante tutto, nonostante poi nel 2020 il Cinema Z è stato riconosciuto cinema de sé, nonostante il Teatro Z gli è stata riconosciuta la tournée internazionale a Parigi nel 2020, o siamo un ente fus, questi 3.000 euro, placidamente, vengono riconfermati dal sindaco Biondi, al quale ho chiesto le motivazioni, non mi ha mai risposto negli anni, mi ha spedito, affirma appunto, il sindaco ha spedito la convenzione tra Teatro Z e il Comune dell'Aquila, convenzione che il sottoscritto non ha potere di firmare perché l'Assemblea dei Soci ha stabilito che Teatro Z quest'anno non accetta il contributo ordinario di 3.000 euro e quindi non firma. Detto questo, il mio appello al sindaco Biondi è di spiegarmi per quale ragione in questi anni ha applicato un costrutto matematico inversamente proporzionale. Più crescevano le attività del Teatro Z, più il Comune tagliava Teatro Z.